Avremo un grande appuntamento, lo Street Food Village appunto verranno da ogni parte d'Italia in una zona della città che noi intendiamo ripristinare anche alle funzioni eventistiche che è quella di Via Pepe, la zona stadio. L'appuntamento è per sabato 29 e domenica 30 agosto dalle 18 del pomeriggio in poi e oltre al buon cibo, al cibo di strada di qualità avremo anche tanto divertimento e intrattenimento con gruppi musicali e appunto perché vogliamo far sì che quella zona e le altre zone della città diventino attrattive soprattutto in questo periodo dove molte persone sono a Pescara per i giochi del Mediterraneo. Un bilancio estremamente positivo, noi siamo partiti il primo maggio con il concerto di Giuliano Palma riavviando una grande tradizione, abbiamo avuto l'Iron Man, abbiamo avuto la Notte Bianca del Mediterraneo con più di 200.000 presenze che ha coinvolto tutta quanta la riviera pedonalizzata, la Notte Bianca dello Shopping e poi davvero una marea di iniziative che hanno riportato la nostra città ad essere centro attrattivo non solo in Abruzzo ma anche a riaffermarsi come capitale del medio adriatico.